Sono intrappolato! Signore e signori, grazie per la vostra visita e speriamo che lo spettacolo vi sia piaciuto. Freddy e la gang sono un po' stanchi ma torneranno settimana prossima dopo alcuni giorni di manutenzione. Il Freddy Fazbear Mega Pizzaplex ora è chiuso. Avvio dei protocolli notturni. No, no! Sono ancora qui! Il Freddy Fazbear Mega Pizzaplex Grazie mille nuagri! Dio mi ha perdito! Dio mi ha perdito! Molinaggio! Ti è possibile scappare quando le porte di sicurezza riapriranno alle 6 del mattino Ma fino ad allora continua a muoverti e cerca di non attirare l'attenzione su di te Se c'è un'altra via d'uscita ti aiuterò a trovarla, te lo prometto Diretti verso la parte anteriore dell'edificio dove ci saranno chiagli originali Oppure un volo per una ricarica gratuita di sode dove firmerete un disclaimer legale che ci esodera da ogni responsabilità Per qualsiasi cosa possa essere accaduta durante la vostra visita Passa una notte fantastica, speriamo di rivederti presto Vuoi partecipare a un breve sondaggio sulla tua esperienza? Grazie a tutti!